Rapina a mano armata sabato sera a Favara, l'hard discount di piazza Angelo Giglia. Magro è il bottino, circa 2000 euro. A compiere il furto, verificatosi intorno alle ore 18.30, sarebbero stati due soggetti che con pistole alla mano si sarebbero introdotti all'interno dell'attività commerciale ed intimato alle cassiere di farsi consegnare l'incasso. I due malviventi sono entrati all'interno del market con due caschi integrali alla testa. L'azione criminale sarebbe stata fulminea, tanto da non far comprendere ai tanti clienti che al momento si trovavano all'interno dell'attività commerciale e dell'accaduto. Secondo quanto si apprende da qualche cliente, i due malviventi avrebbero intascato soltanto le banconote e lasciato per terra i soldi in moneta. Subito dopo la rapina, i due ladri sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce. Scattato l'allarme sul posto, si sono tempestivamente recati i carabinieri della locale tenenza agli ordini di Gabriele Treleani, che avviate subito le ricerche, hanno sentito la versione dei fatti del personale del discount e dei clienti che si trovavano al suo interno. Sull'accaduto sono state aperte delle indagini. Non è la prima volta che il supermercato Hard Discount viene preso di mira da malviventi. Nel mese di gennaio del 2009, sulle saracinesche del discount, i gnoti avevano lasciato una croce in legno. Lo scorso 13 marzo invece dal supermercato era stata portata via la cassaforte contenente la somma di circa 29 mila euro.